Il Parco del Cilento, Vallodidiano e Alburni è l'unica eccellenza nazionale entrata nella classifica Traveler's Choice 2021, la top 10 europea di TripAdvisor. Si è piazzato al decimo posto tra i parchi più apprezzati d'Europa, unico in Italia. Un risultato ottenuto analizzando le recensioni, i punteggi e i luoghi salvati che i viaggiatori condividono in tutto il mondo per riconoscere le strutture migliori in assoluto. A renderlo noto è stato il presidente Tommaso Pellegrino. Sono orgoglioso di questo prestigioso riconoscimento, ha detto, perché a determinarlo non sono stati enti astratti ma i tantissimi visitatori del nostro territorio che ne hanno apprezzato lo straordinario valore paesaggistico, ambientale e culturale. Un successo che voglio condividere con tutte le realtà turistico-ricreative, enogastronomiche, artigianali e produttive che costituiscono la vera ricchezza del parco facendone vanto internazionale. Il cilento figura così accanto a parchi del Regno Unito, della Croazia, dell'Islanda, della Spagna e della Turchia. Nella breve presentazione proposta su TripAdvisor emerge il suo patrimonio culturale, con Pestum, Veli, alla Certosa di Padula e quello naturale, con il mare, le grotte come quelle di Castelcivita e i paesaggi che rievocano epoche remote. Questo prestigioso riconoscimento, ha detto Pellegrino, serve a consolidare il percorso tracciato nella gestione dell'ente parco, che deve coniugare tutela del territorio, sviluppo sostenibile e promozione dei valori culturali. La valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale in Italia dovrà essere al centro delle politiche del prossimo governo. Da qui è possibile ricostruire la nostra economia nella fase post-pandemica. Grazie.